Tanta voglia di tornare a vivere senza doversi preoccupare troppo della pandemia. E' iniziata anche a Taranto, notte prima degli esami, la campagna vaccinale della regione che dà avvio alla somministrazione dei vaccini anti-covid ai maturandi pugliesi. La prima sessione è stata dedicata ai ragazzi che frequentano il quinto anno presso l'Istituto Battaglini e Liceo Archita del Capoluogo, accorsi alla Pala Ricciardi per la prima dose di Pfizer. Grande affluenza degli adolescenti che si sono presentati all'appuntamento già prima dell'orario prestabilito, spingendo i sanitari della Pala Ricciardi e dell'ASL Taranto ad avviare con mezz'ora d'anticipo le operazioni di vaccinazione. Di che scuola sei? Battaglini. Dicevamo è un modo per tornare alla vita? Sì, assolutamente. Io non vedevo l'ora perché comunque c'è bisogno di rinascita, c'è bisogno che l'Italia riparta, quindi è giusto vaccinarsi. Sei contento di vaccinarti? Sono molto contento. Qual è la motivazione principale di questa contentezza? Beh, i viaggi, maggiore libertà nelle scelte. Puoi anche fare l'esame con più tranquillità? Sì, sì, certo. Anche per maggiore tutela delle persone che mi stanno vicine, soprattutto quelle più anziane. Una giornata di festa anche per i dirigenti scolastici dei due istituti, Patrizia Arzeni del Battaglini e Francesco Urso dell'Archita. Siamo felicissimi di essere qui stasera con i nostri ragazzi che ovviamente hanno accolto con grande gioia loro e le loro famiglie la notizia di poter venire stasera a Palarricciardi e avere questo vaccino tanto desiderato. È un segnale di incoraggiamento, di speranza perché possa ritornare a settembre tutto normale. Sicuramente quest'anno la maturità comincia prima. Questo è l'inizio della maturità degli esami di Stato 2020-21. Per Taranto cominciano oggi gli esami, dopo un difficilissimo periodo cominciamo a rivedere la luce.